Buongiorno a tutti da Giampaolo Alparone. Parlo oggi della mia lettura di un libro di storia che ho trovato molto interessante. L'autore Stefano Tabacchi, che è uno studioso specializzato su questione della Francia del secolo XVI e XVII, si tratta di una monografia su Richelieu in un'edizione molto gradevole di Salerno Editore e mi è interessato perché è l'occasione per rispolverare un po' la storia della Francia dalla fine del Cinquecento e all'inizio del Seicento e per capire anche bene le dinamiche di alcuni fenomeni che arrivano fino ai giorni nostri, quindi per capire meglio anche la contemporaneità. Io prima di intraprendere la lettura di questo libro avevo di Richelieu un'immagine che poi derivava ancora dalle mie letture di ragazzo, dei romanzi di Dumas, I tre moschettieri e i seguito, il Viscontri di Brasgelon e vent'anni dopo, che poi però vanno a finire su un'epoca successiva, ma comunque là dove c'erano i grandi scontri, i grandi duelli tra i moschettiere del re e le guardie del cardinale che si mettevano sempre di mezzo, mettevano sempre i bastoni tra le ruote e lo stesso Richelieu veniva dipinto come una figura di grande potere, molto intrigante, molto pericoloso, una persona da cui guardarsi, una persona lugubre e sinistra. Immagine di Dumas che poi in qualche modo riprendeva la sensazione, la percezione di un famoso dipinto, il più famoso ritratto di Richelieu, alto, magro, visto di fronte con una postura fissa, inespressiva, algida, la personificazione del potere e anche lì uno ritraeva e ne ritrae un'impressione sinistra del personaggio, quasi un fantasma assolutamente. E poi aveva in mente la lezione storiografica soprattutto francese che tiene insieme in una linea, per fortuna non continua, grandi personaggi, grandi costruttori della Francia, da Filippo Gust, il vincitore di Bouvina nel 1215 che fa emergere la dinastia Capettingia al di sopra degli altri aristocratici francesi e di lì inizia il corso della monarchia di Francia e poi appunto Richelieu in Luigi XIV fino ad arrivare direi a De Gaulle, insomma una serie di grandi politici francesi costruttori della grandeur con tutti i danni che la grandeur francese ha fatto al mondo nel corso della storia. Ecco, questa era la mia immagine di Richelieu, poi aprendo il libro nell'introduzione paradossalmente ho ritrovato tutti questi elementi a partire da Dumas, non me lo sarei mai aspettato, in un libro di storia fino ad arrivare alla grandeur francese e devo dire è stata una sorpresa piacevolissima perché il libro inizia ripercorrendo come si è costruita l'immagine di Richelieu, la fortuna di Richelieu nel corso dei secoli, un taglio molto interessante. Poi il libro ovviamente analizza cronologicamente i fatti storici e parte dalla famiglia di origine di Richelieu, una famiglia della piccola media nobiltà provinciale, i duplessis, molto radicati nel territorio da cui provengono, che è il Poitou, regione della Francia occidentale, diciamo tra la Loira e l'Atlantico, che fondano la loro importanza sulla proprietà terriera e sulle imprese militari, non sulle cariche ecclesiastiche. Diciamo una famiglia molto radicata in provincia e che non ha nulla sostanzialmente a che fare con la capitale, con gli eventi della monarchia, fino ad arrivare al padre di Richelieu, François du Plessis, che diventa uomo di corte e acquisisce una certa importanza nel periodo della reggenza di Caterina de' Medici. E allora secondo me qui vale la pena aprire una parentesi e cercare di capire che cos'è questo periodo, la reggenza di Caterina de' Medici e le guerre di religione in Francia. Allora sostanzialmente cosa in rapidissima rassegna, cosa succede nel Cinquecento? In Francia i sovrani Valois, in primo luogo Francesco I, si imbarcano in una serie di guerre, sono le campagne d'Italia, che conducono contro la Spagna degli Asburgo, il rivale di Francesco I di Valois e Carlo V d'Asburgo, e si arriva a metà del Cinquecento con la pace di Cato Cambresi del 1559, stipulata tra Enrico II di Valois, figlio di Francesco I, e Filippo II d'Asburgo, figlio di Carlo V, che sancisce la disfatta della Francia e sancisce l'inizio della egemonia europea degli Asburgo in tutta Europa. Egemonia che durerà per molto tempo, in Europa almeno fino alla pace di Vesfalia del 1648, che chiude la guerra dei Trent'anni, ma in Italia ancora di più, fino a che il milanese non passerà agli austriaci all'inizio del Settecento, e addirittura nel meridione a Napoli, sostanzialmente fino a Napoleone. Ma nel Cinquecento la Francia intraprende, la Francia di Francesco I, di Enrico II, la Francia dei Valois, intraprende una serie di guerre in Italia, alla fine con esito disastroso, perché stravincono gli spagnoli. Infatti la pace di Cato Cambresì del 1559 viene stipulata dopo una grande disfatta militare che è la battaglia di San Quintino, San Quentin, che si trova nella Somma, la regione dove poi ci sarà una delle più sanguinose battaglie della Prima Guerra Mondiale. E a vincere quella battaglia lì è il grande generale degli Asburgo, Filippo Emanuele Filiberto di Savoia, proprio quello che campeggia in piazza San Carlo a Torino, nell'atto di rinfoderare la spada nel fodero, finita la battaglia. La tradizione risorgimentale vuole che nel Cinquecento e nel Seicento gli italiani siano stati sottoposti al gioco straniero, in realtà molti grandi, soprattutto militari italiani, Emanuele Filiberto, il Principe Eugenio, Alessandro Farnese e ce ne sarebbero anche altri da nominare, hanno svolto un ruolo di primo piano militare e anche politico nell'Italia moderna. Ma comunque la sostanza è che la Francia dei Valois a metà del Cinquecento ne esce molto male dal confronto internazionale perché è stata schiacciata militarmente dalla Spagna e questo ha comportato anche un impoverimento delle casse dello Stato molto forte a cui i sovrani francesi rispondono con un inaspirimento delle imposte e questo genera un malcontento diffuso. Le imposte gravano un po' su tutte le classi, sulle classi più povere e poi a cascata anche sulle classi della piccola e media feudalità e parallelamente poi si sviluppa, c'è un processo diciamo di innalzamento dei prezzi perché la Spagna sta iniziando a emettere sui mercati internazionali una grande quantità di argento di provenienza americana che modificherà per sempre il rapporto di cambio tra il rapporto reciproco di valore tra l'oro e l'argento, tra i metalli preziosi e genererà una spirale inflazionistica dei prezzi. Quindi siamo in una situazione di crisi economica e finanziaria. In una situazione in cui la monarchia francese ha perso gran parte del suo prestigio militarmente sul piano internazionale si sviluppa ovviamente una forte opposizione alla monarchia in Francia che diciamo passa sotto l'etichetta della guerra, della guerra di religione, dell'opposizione tra le fazioni di Ugonotti, i caldinisti e appunto i cattolici. In realtà l'origine della guerra non è una contrapposizione, la sostanza della guerra non è una contrapposizione di carattere religioso spirituale, anche se la religione a quel tempo contava decisamente di più di quel che conta oggi, ma alla base c'è un problema politico, la crisi della monarchia sul piano internazionale in Francia è un problema di tipo economico e finanziario. Fatto sta che fin dal tempo del regno di Enrico II, il figlio di Francesco I, si sviluppa una fortissima opposizione tra queste due fazioni, tra la fazione Ugonotti e la fazione cattolica, con la monarchia presa un po' nel mezzo tra queste due, monarchia che comunque era cattolica ovviamente. E poi dopo la morte prematura del re Enrico II, si sviluppa una guerra guerreggiata vera e propria, con uno scontro armato tra le due fazioni. Anche perché nel frattempo a peggiorare la situazione c'è stata la morte prematura di Enrico II, che lascia degli eredi tre figli tutti molto piccoli. E quindi, siccome le donne in Francia non possono succedere al trono per la vecchia legge ancora dei franchi, risalente ai franchi, la legge salica, c'è il periodo della reggenza della moglie di Enrico II, che è Caterina de' Medici. Personaggio odiatissimo in Francia, ancora ai tempi dell'Ottocento, di Dumas, che costruisce una leggenda nera intorno alla figura di Caterina de' Medici, come ancora oggi succede per molte donne in carriera, insomma, che si dice a quelle lì hanno fatto carriera soltanto perché. E la stessa cosa sostanzialmente si diceva di Caterina de' Medici, che venne accusata di essere una donna terribile, sanguinaria, di tutto. E che in realtà invece fu un sovrano abbastanza saggio e che cercò in qualche modo di proteggere la monarchia tra le due fazioni in lotta, tra la fazione degli Ugonotti, che avevano a capo l'aristocrazia dei Coligni, e la fazione dei Cattolici, che avevano a capo Enrico di Guisa, personaggio molto spietato, molto pericoloso. Cattolici che peraltro erano ugualmente pericolosi rispetto agli Ugonotti, perché erano filo spagnoli e quindi la monarchia temeva, come poi alla fine della guerra successe, che la fazione cattolica provocasse un intervento armato della Spagna in Francia. Insomma, la monarchia tentò di barcamenarsi tra le due fazioni con una politica il più possibile prudente, fino ad arrivare al tentativo di comporre la guerra, che fu una guerra molto sanguinosa, molto dura, che durò all'incirca vent'anni, attraverso il matrimonio di una delle figlie di Caterina de' Medici, Margot, anche qui la regina Margot, personaggio percorso letterariamente da Dumas e che ancora oggi è famoso per aver dato origine a una serie di film, anche abbastanza recenti, film storici. Insomma, l'idea di Caterina era quella di organizzare un matrimonio simbolico, sostanzialmente, ma matrimonio tra la parte cattolica rappresentata da sua figlia Margot e il capo della fazione Ugonotta, che morto Coligny, fatto uccidere da Enrico di Guisa, il capo era diventato Enrico di Borbone, che sarebbe stato il futuro re Enrico IV. Quindi si organizzano, organizzano le nozze a Parigi, che avrebbero dovuto in qualche modo segnare la pacificazione tra le due fazioni, però era una trappola per i capi Ugonotti, i capi della fazione Ugonotta, che arrivano a Parigi per festeggiare le nozze e poi, adesso non ricordo, subito prima o subito dopo, vengono massacrati dai cattolici in quella che è passata la notte del massacro di San Bartolomeo. Siamo negli anni settanta del 1500 e di lì scoppia molto più feroce di prima la guerra. È un po' un tutti contro tutti, tra la fazione cattolica con a capo Enrico di Guisa, la fazione Ugonotta con a capo Enrico di Borbone e la monarchia con l'ultimo dei tre figli di Enrico II, che aveva il titolo di Enrico III e quindi si chiama la guerra dei tre Enricchi. Come andò a finire? Che si ammazzarono l'uno con l'altro e sopravvisse, l'unico che sopravvisse fu Enrico di Borbone, che divenne re con il nome di Enrico IV e che avviò la dinastia dei Borbone. Quello che all'atto di assumere la monarchia si convertì al cattolicesimo come mossa politica distensiva. Quello che disse, anzi che non disse mai, ma a lui viene attribuita la frase Parigi val bene una messa, e che in realtà fu un sovrano molto accorto e che passa alla storia come uno dei grandi costruttori, ricostruttore della monarchia francese e della dignità internazionale della Francia e tentò anche di mettere ordine all'interno. Infatti ci fu l'edito di Nantes che dava agli Ugonotta la possibilità della libertà di culto e in realtà assicurava agli Ugonotti anche l'amministrazione anche militare di più di cento piazze armate nella Francia. La parte controllata dagli Ugonotti era quella della Francia occidentale. Insomma c'erano tutta una serie di concessioni agli Ugonotti e durante il periodo eh del regno di Enrico IV temporaneamente la situazione eh si tranquillizzò. E poi Enrico IV cercò di mettere anche il argine al dissesto delle finanze dello Stato francese eh coadiuvato in questo dal suo importante ministro eh Sully. E insomma con il il regno di Enrico IV c'è proprio una soluzione di continuità dell'andamento ehm eh che eh aveva peggiorato la situazione internazionale interna della Francia per tutto il Cinquecento e con Enrico IV la situazione si ristabilisce. Enrico IV si mette un po' di traverso diciamo al al corso negativo della storia della Francia alla fine del Cinquecento e questo suo mettersi di traverso è rappresentato nell'architettura di Parigi anche da un punto di vista visivo perché da Place de la Bastille eh andando verso la Senna si apre un corso che ehm è eh Boulevard Henri IV eh si tratta dell'architettura della Francia dell'Ottocento voluta da Osman eh e il Boulevard Henri IV eh continua eh con un ponte che attraversa la Senna e che si si chiama il Pont de Sully quindi ci sono tutte e due il re e il suo ministro uno in fila all'altro e il Pont de Sully è l'unico eh ponte di Parigi che attraversa la Senna non perpendicolarmente ma proprio di traverso l'unico ponte che attraversa di traverso la Senna è il Pont de Sully che prosegue che prosegue verso Bastille attraverso il Boulevard Henri IV proprio a simboleggiare questo mettersi di di ehm Enrico IV e del suo ministro rispetto al corso della al corso eh negativo della storia eh di Francia del Cinquecento. Enrico IV viene ucciso ehm viene assassinato da un fanatico protestante nel milleseicento dieci ecco questo è tutto questo è la situazione della della a Parigi e in Francia mh alla fine del Cinquecento e all'inizio del Seicento ed è in questa situazione eh che eh la famiglia la famiglia eh che eh la famiglia eh da cui verrà fuori il cardinale eh col padre del del cardinale che era François Duplessis eh si ehm eh sostanzialmente trova il suo centro a Parigi perché François Duplessis diventa uomo di corte eh sotto uno dei figli Carlo IX mi sembra di Enrico Enrico II durante la reggenza di di Caterina de' Medici e diventa un funzionario della monarchia di una certa importanza e ehm temporaneamente eh insomma fa anche una certa fortuna finanziaria eh per la famiglia acquisisce eh alla famiglia il vescovato di Rousson che è un piccolo vescovato nell'ove della Francia e eh insomma la 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 famiglia Duplessis si radica a Parigi col padre di Richelieu ehm finito il ciclo dei Valois eh François Duplessis continua a fare funzionario importante della monarchia sotto Enrico eh quarto ma eh François Duplessis muore eh prematuramente eh lasciando i figli piccoli. di qui in poi il libro segue il libro di Stefano Tabacchi segue il corso della formazione del giovane Richelieu eh la scelta della famiglia di indirizzarlo alla carriera ecclesiastica eh Richelieu era figlio cadetto e ehm a soli a poco più di vent'anni l'assegnazione eh del vescovato di Lusson eh che era tappannaggio eh da alcuni decenni della famiglia di Richelieu e ehm quindi il giovane Richelieu che si eh occupa del suo vescovato e che poi eh poco alla volta ehm eh si eh entra nell'entourage della eh come come aveva fatto il padre della della inizia a ricoprire un ruolo importante eh a Parigi eh presso la monarchia e il periodo morto Enrico IV di una nuova reggenza la reggenza di quella che era stata la moglie di Enrico IV la seconda moglie di Enrico IV Maria de Medici e ehm anche qui ehm diciamo una nuova diciamo sostanzialmente una nuova reggine italiana intorno a cui il la ehm si costruisce un'altra leggenda nera anche Maria de me su Maria de Medici ehm eh se ne dissero di fotte e di crude anche perché eh sostanzialmente eh Maria de Medici e il suo favorito Concino Concini sostanzialmente il suo amante ehm rubarono la scena eh politica per tutto il periodo della reggenza ehm ai grandi feudatari eh ai grandi feudatari francesi che avrebbero voluto contare molto di più nell'amministrazione dello Stato. Ne seguì una fortissima opposizione tra le due fazioni tra la fazione eh della eh regina madre Maria de Medici eh e la fazione dei eh più importanti eh aristocratici francesi fino ad arrivare allo scontro armato anche in questo caso. Il e si arrivò nel milleseicentoquattordici alla convocazione degli stati generali che era un'assemblea di carattere consultivo ma di antichissima origine eh feudale che si riuniva in casi straordinari particolarmente gravi. E eh sostanzialmente ehm la l'assemblea degli stati generali del del milleseicentoquattordici fu l'ultima volta che gli stati generali si riunirono prima della riunione degli stati generali del millesettecentottantanove che sarebbe stato il preludio della rivoluzione francese. Ehm in questa assemblea degli stati generali venne confermato il ehm il potere della reggente Maria de Medici e fu questa la più la prima e più importante occasione iniziale in cui eh si mise in luce come politico che divenne un un uomo dell'entourage eh della reggente Maria de Medici eh assumendo un'importanza eh sempre maggiore. Nel frattempo eh Luigi XIII eh era diventato maggiorenne Luigi XIII il figlio di Enrico IV di Navarra eh che eh era stato ucciso quando il il figlio era ancora minorenne quindi il potere era passato nelle mani di Maria de Medici la madre che eh che eh sostanzialmente lo resse per un quindicennio. La parte eh politica opposta a Maria de Medici ehm premette eh finché eh Luigi tredicesimo non assunse direttamente il potere e a quel punto nel frattempo il ruolo di Richelieu era sempre salito era era diventato sempre più importante perché Richelieu aveva fin da giovane delle grandi capacità di eh diplomazia e di equilibrio si sapeva muovere ehm istintivamente molto bene nell'ambito eh in ambito politico e il libro da il libro da Bacchi da una un'idea molto precisa di quelli che erano i maneggi le alleanze le le strategie politiche della ehm eh della politica del tempo ehm fino a che eh sostanzialmente non si arriva a a un sostanziale colpo di stato del giovane Luigi XIII mosso dai grandi eh feudatari del tempo posti a Maria de Medici e ehm concino concini quindi il favorito eh di ehm di eh Maria de Medici viene ucciso. Maria de Medici viene sostanzialmente imprigionata nella residenza eh di Blois e ehm Richelieu che era arrivato quasi fino alle soglie del governo eh segue Maria de Medici però mettendo in atto una politica insomma di doppia fedeltà restando con una scarpa ehm in Maria presso il lanturale di Maria de Medici e l'altra scarpa eh invece eh nelle vicinanze del del di Luigi XIII cercando di barcamenarsi tra i due. Eh la cosa non gli riesce benissimo infatti in un primo tempo eh cade in disgrazia anche riscegliere e viene accantonato sia da re sia da Maria de Medici. Ma quando Maria de Medici eh sceglie la strada della rivolta armata contro suo figlio eh e viene battuta militarmente si arriva di nuovo a una guerra civile questo è un periodo di guerre civile endemiche tra la monarchia e il e eh e i grandi perdatari ehm allora in in questa situazione di grave difficoltà viene ripescato dal re eh come figura non del tutto compromessa Richelieu e ehm c'è sostanzialmente un periodo di pacificazione in cui Maria de Medici viene richiamata a corte ritrova un ruolo a Parigi eh all'interno sostanzialmente ehm dei funzionari che poi erano l'espressione di governo Richelieu eh sale gradatamente ehm i tutte i tutti i gradini del suo cursus honorum all'interno della ehm del della macchina burocratica della macchina politica di governo fino ad arrivare nel milleseicento ventiquattro che è l'anno oggi diremmo del primo governo Richelieu in cui ehm la politica interna ed internazionale della Francia eh su mandato di Luigi tredicesimo viene affidata al ormai giovane ancora ma ormai insomma eh politicamente maturo Richelieu e di lì in poi si sviluppa la grande eh carriera politica di Richelieu di cui però vi parlo vi parlerò in un prossimo intervento perché sono andato troppo lungo in questo mio eh preambolo quindi a risentirci a prestissimo per la seconda parte ehm del mio intervento in cui vi spiego la mia lettura del libro eh su Richelieu di Stefano Tabacchi. Grazie e arrivederci a tutti.